Rinnovato a Caltanissetta è il direttivo dei marmisti, presidente il giovane Luigi Fiocco per il prossimo triennio 2022-2025. Il 24enne ne è elettore, presidente della più antica categoria della Real Maestrans ed è anche il più giovane a ricoprire questo incarico. Rispetto tutte le altre dieci categorie, si dice fiero ed onorato di rivestire questo incarico. Legame profondo, il suo che è nato il mercoledì santo alle 12, proprio mentre il Santissimo usciva dalla cattedrale, accompagnato da tutta la Real Maestranza in bianco e a campane che suonavano a festa, ha sempre creduto di dover onorare i riti sacri della settimana Santa Nissena, tanto da dichiarare per l'emozione che la Real Maestranza gli scorre nelle vene. Una tradizione di famiglia che si lega al fervore religioso e che sono alla base del suo futuro percorso. Un direttivo, quello attuale, che ha come scopo l'obiettivo di rinnovare la tradizione è fare comprendere ai giovani l'importanza dei riti sacri. Un ruolo che i suoi colleghi marmisti gli hanno affidato, seguendo l'invito del Vescovo di Caltanissetta, Monsignor Mario Russotto, che durante la notte di Pasqua ha invitato a rinnovare la tradizione senza rinnegarla e per poter così anche avvicinare i giovani. Luigi Fiocco, in questo triennio, verrà affiancato dal Vicepresidente Giancarlo Salerno, dal Segretario e Tesoriere Roberto Corbo, e i consiglieri Ivan Signorello e Alessandro Falzone, tutti i titolari o eredi dei laboratori tra più antichi. Molte le idee del nuovo direttivo, tanti anche i progetti che saranno messi in campo. La famiglia Fiocco e del resto è celebre tra la categoria dei marmisti e negli annali della real maestranza, dal bisnonno di Luigi, Salvatore Fiocco, che fu capitano della categoria del 1975, con un compito che fu concesso 20 anni dopo, nel 1995, al nonno Luigi e nel 2005 al padre Salvatore, che è stato lo scudiero della categoria. Tutti i componenti del direttivo hanno una lunga tradizione di famiglia con un trascorso storico e sono parti attive tra i marmisti che onoreranno e porteranno avanti, contribuendo a scrivere il futuro della tradizione.